Ciao a tutti e bentrovati. Quello di oggi non vuole essere un tutorial, ma più che altro vorrei vedere come impostare al meglio il nostro sistema vMix per migliorare al massimo i nostri tempi di render. Il tempo di render, il render time è quella voce che possiamo trovare in basso a sinistra in fondo alla nostra interfaccia di vMix. Ci sono varie impostazioni sia sul sistema che su vMix da andare a controllare per verificare che sia tutto settato in maniera ottimale. Allora, innanzitutto sul sito di vMix, ok, a questo link che magari inserirò qui sotto nella descrizione del video, possiamo trovare molte informazioni utili. Innanzitutto vMix consiglia di avere una scheda grafica, come minimo ci dicono un Nvidia 1050 Ti o maggiore. Ovviamente vMix è sviluppata utilizzando Nvidia, nessun problema utilizzare schede AMD per esempio. Diciamo che queste impostazioni sono scritte supponendo che la scheda grafica sia Nvidia. Controlliamo, controllate che il render time ci dice vMix, che si legge in fondo alla nostra finestra dell'interfaccia, non sia costantemente sopra i 20 millisecondi, perché in quel caso significherebbe che la nostra scheda grafica è a limite. Raccomandazioni. Innanzitutto di controllare che i nostri driver Nvidia siano aggiornati. Disinstallare il software GeForce Experience e tenere solamente il nostro pannello di controllo Nvidia. e dal pannello di controllo Nvidia andare a controllare questo settaggio che possiamo trovare sotto gestisci le impostazioni 3D, impostazioni programma, ok, vMix. Andiamo a controllare che la voce modalità di gestione dell'alimentazione sia settato su preferisci le prestazioni massime. Nel caso così non sia, settatelo su preferisci le prestazioni massime, cliccate su applica e via. Questo primo punto è ottimizzato. Poi, se usiamo un grande numero di input e abbiamo una scheda grafica con più di 3 GB di memoria, vMix ci dice di attivare, spuntare questa voce nei settaggi. Performance, vedete, perché schede grafiche con più di 3 GB, spuntare ID Input Performance Mode. Un'altra cosa interessante è che se non abilitate il settaggio avanzato, la finestra per i settaggi avanzati, se non è abilitata, questa finestra Performance vi si aprirà arrivando fino a Show GPU, CPU Alerts. Se voi attivate Show Advanced Settings, quindi spuntate, vi si attiveranno ulteriori impostazioni, di cui molte sono da toccare soltanto una volta che ci siamo informati su cosa sono. Altre possono essere interessanti. Spulciando in giro, per curiosità ovviamente, sono andato a cercare cosa possono servirci queste altre impostazioni. E' interessante questo Enable Optimus Graphics Compatibility, che non è segnato sul manuale utente, ma ho trovato, possiamo vedere, qui sul nostro browser, su questa pagina del forum, che questa opzione è utile per i sistemi laptop, dove la nostra scheda grafica, e il nostro laptop ha una scheda grafica, che è ovviamente una scheda grafica Nvidia, e dove la GPU praticamente renderizza il video e l'invia alla scheda grafica integrata, dove è connesso il display del nostro laptop. Ovviamente su un sistema desktop, il monitor dovrebbe già essere connesso direttamente alla nostra GPU, quindi questa cosa non si applica, invece per il laptop potrebbe essere utile spuntare questa opzione. Ok, su questi settaggi ci siamo. Possiamo tornare alla nostra pagina, al nostro articolo di vMix. CPU. Ora, come migliorare anche le nostre prestazioni relativamente alla CPU? Innanzitutto, ci serve andare per questo primo passaggio, possiamo vedere di qua, sulle impostazioni di Windows, sistema, alimentazione e sospensione, impostazioni di risparmio di energie aggiuntive, vedete che sotto bilanciato io ho già attivo questa combinazione personalizzata 1, che ho attivato facendo crea combinazioni per il risparmio di energia, e andando a settare prestazioni elevate. Ovviamente si può dare un nome a questa combinazione, facendo avanti la aggiunge alle nostre combinazioni di risparmio di energia. Ok, questa spunta consente di migliorare le prestazioni, ovviamente utilizzando più energia. Fate avanti, non annulla ovviamente, e vi troverete qua una nuova impostazione di combinazioni per il risparmio energetico. Ok, ritorniamo al nostro articolo. Ok, registrazioni, se avete una scheda grafica NVIDIA installata su Windows 10 e registrate MP4, utilizzate l'hardware encoder, in pratica, dove la finestra di impostazioni della vostra registrazione, se siete su MP4, spuntate Use Hardware Encoder in modo da diminuire l'utilizzo della CPU. Bene. Questo era, grosso modo, quanto ci indica anche Vmix per ottimizzare il nostro sistema e migliorare i nostri tempi di render. Spero che questo a breve incontro possa esservi utile. Se avete dei commenti o delle necessità particolari riguardo a qualche settaggio, fatecelo sapere scrivendo nei commenti qui sotto oppure sul gruppo Vmix Italia su Facebook. Vi ringrazio per averci guardato fino adesso e vi saluto. Ciao. Ciao. Grazie.